Ciao ragazzi, oggi sono particolarmente felice, euforico ed emozionato, ma c'è un motivo ben preciso. Oggi è uscito in tutte le librerie italiane il mio primo libro che si intitola Professione Travel Blogger ed è edito dalla Dario Flacco, editore. Sinceramente mai avrei pensato di scrivere un libro, infatti quando lo scorso anno mi ha contattato la casa editrice la mia risposta è stata subito no grazie, non me la sentivo, non mi sentivo forse in grado di intraprendere un'avventura così importante, ma poi ci ho riflettuto, ho accettato e quel giorno di poi posso dire che è stata una delle esperienze più emozionanti della mia vita. Ma di cosa tratta questo libro? È un libro rivolto principalmente agli appassionati di viaggi, a chi crede ancora nei sogni e a chi vuole dare una svolta alla propria vita cercando di trasformare la propria passione in un lavoro. È un libro rivolto sia a chi si approccia per la prima volta al mondo del blogging e vuole capire come aprire un blog, come gestirlo e come valorizzarlo, si ha i blogger attivi già da diverso tempo nella blogosfera che qui troveranno tante dritte per migliorare la propria presenza online, attingendo alla mia esperienza pluriannale. Pensate che ho aperto il mio blog volocrates.org nel lontano 2009, mamma mia come vuole il tempo! Come si apre un blog? Come si gestiscono al meglio i social network? Come si aumentano le visite al proprio sito web? E soprattutto, come si guadagna con un blog di viaggi? Tra le pagine di professione travel blogger troverete le risposte a queste e tante altre domande che assilano la mente di migliaia di persone, blogger e non, e che per tanto tempo hanno assilato anche la mia. Ma non solo, farà luce anche su una professione a molte sconosciuta e non da tutti ritenuta come tale. Nel primo capitolo troverete anche la mia storia, ma tranquilli, è tutto scritto con un linguaggio semplice e a tratti divertente. Il libro è inoltre impreziosito da interventi di super esperti del settore, come ad esempio Veronica Gentili, Riccardo Scandellari, Riccardo Esposito, Rudy Bandiera, Ezio Totorizzo ed Andrea Giacobazzi, ma anche di altri amici. Professione Travel Blogger è in vendita in tutte le principali librerie italiane e anche negli store digitali come ad esempio Amazon. E già so che quando lo vedrò tra gli scaffali di Mondatori o della Feltrinelli rischierò uno svenimento. Che dire, vi ringrazio e vi abbraccio tutti, ma proprio tutti. Ciao ragazzi!